Siamo molto felici di poter annunciare che il biodistretto del Re degli Elimi è stato uno dei due distretti riconosciuti a livello regionale come proprio distretto biologico, biodistretto, insieme a un altro distretto del cibo. Questo ci permette di ulteriormente portare forza a questo progetto di rete, di comunità, di comuni, di agricoltori e questo ci permette quindi di poter accedere a dei finanziamenti, dei contributi, partecipare a bandi. Infatti abbiamo già partecipato a un bando del MASAF, quindi del Ministero, e ci permette quindi di essere anche un ente riconosciuto e di poter dialogare con altri enti, come per esempio i distretti turistici, il distretto West Sicili per esempio, e quindi di poter coniugare l'agricoltura, la ruralità con altri percorsi come quelli turistici per esempio. Ricordo che il biodistretto chiaramente non è un progetto né del comune di Petrosino né di altri comuni, ma è un progetto di aziende e per le aziende, quindi tutte le aziende che vogliano fare parte, che siano in biologico, che vedono un percorso a intraprendere in questo senso di comunità, di rete, possono fare richiesta per iscriversi al nostro biodistretto. Al momento sono 16 comuni e una quarantina di aziende tra vinicole, vitivinicole, ma anche cerealicole, orticole, eccetera, quindi siamo proprio aperti e c'è molta varietà come sono diversi i nostri territori nella provincia.